Andiamo adesso a vedere col mandolino come eseguire tutte queste parti, dal temino agli accordi, alla ritmica con gli accordi, il soletto centrale. La prima cosa che affronterei, che andiamo ad affrontare, è il temino di apertura del brano. Iniziamo in La minore, quindi la scala di La minore nel mandolino. Abbiamo questa corda che è un Sol, al secondo tasto abbiamo un La. Vediamo quali sono le note che andremo a prendere. Prenderemo La Si Do Re Mi Inizia così. La plettrata è alternata, iniziando con una pennata in giù. Quindi mi troverò a suonare La in giù, I Si in su, Do in giù, Re a vuoto su e Mi giù. Vedete che poi le note le suono tutte staccate. Cioè suono ma mollo anche al tempo stesso la nota. Non la fa, non suono tutto legato così. Ma Faccio morire il suono della nota. Stoppandolo sia con la sinistra ma anche un po' con la destra. Con il lato del, appena sopra al plettro del pollice. Vedete? Riposizionando il plettro sulla corda stessa. La seconda frase parte dal Do. Do Re Mi Fa Sol La E La finisce in giù. Quindi Segue La suono a tempo, non troppo veloce. Metto questo accordo di La minore. Vediamo l'accordo di La minore. Questo accordo di La minore è preso con il La Acuto al canto. Il secondo dito prende il Do E con questo dito, con il dito numero uno, schiaccieremo queste due corde sopra Con un barrettino. Un barret che prende queste due o tre corde. Rimane anche un po' dietro al secondo dito. Posizione un po' difficile da prendere. Molto scomoda. Però una volta che vi sarete abituati È di uso continuo. Un altro modo di prendere il La minore è tenere sempre questa posizione qui, ma sollevare il mignono a favore del Mi cantino. Quindi non più il La al canto, ma il Mi. Comunque sembra una nota che fa parte dell'accordo. L'accordo di La minore è formato da tre note. La prima, la terza, la quinta. La, Do e Mi. Quindi posso avere il La al canto o il Mi. Sembra una nota dell'accordo. Comunque non si tratta sempre di una nota dell'accordo. Arrivano gli accordi sul cantato. Quindi questo La minore senza il Mignono. La ritmica. Un po' tre quarti swing. Pennata. Pennata. Dovete ogni volta, per farlo veramente bene, che sia carino e coinvolgente, stoppare le note. In questa maniera. Anche riposizionando il terzo dito sopra le corde stesse, mollando la posizione e mettendo il terzo dito. Re minore. Vedete? Primo dito, primo tasto. Secondo dito. Una quarta corda. Secondo tasto. Questo è il Re minore. Troverete tutto ben scritto. con tutte le posizioni sul manico. Poi arriva il Sol. Questo è Sol. Se metto il dito numero uno, qui diventa Sol settima. E poi arriviamo al Do. In questa maniera. Ok? Ripeto. Re minore. No minore. Il Si maggiore. Si settima. Mi settima. Per quanto riguarda il Mi, il Mi settima, come per il La minore, abbiamo due possibilità. Una con il Sol diesis, quindi la terza al canto, la terza dell'accordo di Mi, il Sol diesis. oppure sollevando il Mi stesso al canto, quindi la tonica dell'accordo. In questo caso è più carino mettere il Sol diesis, che poi risolve a La minore. Durante il brano non dovete necessariamente stoppare sempre. Basta anche solo l'accordo. Quindi così. E riprendo. Questa è la ritmica. Se volete farlo un po' swingato, potete fare questa pennata, dove prendete l'accordo e la pennate in su dove l'accordo non c'è più. Oppure in tre quarti. Eviterei di suonarlo proprio in tre quarti, così. Non lo trovo molto carino. Sui raggi. Ecco, quando vi dicevo un po' swing, dare un po' di movimento, come una spazzola del rullante, come fa un batterista, no? Ok. E. E. Andiamo al temino centrale. Anche qui le note sono tutte puntate. Iniziamo con la nota di E. Mi e Fa, vedete? Plettrata alternata. Questo, prendete il Sol in su, e il Si in giù. Poi il Re in su, e il Sol in giù. Così. Con terzo e quarto dito. Anche secondo e terzo non è un problema. Così. E qui suonate, fate in un tremolo. Dopo queste note. Andiamo alla parte in Do minore. Quando modulo in Do minore, abbiamo l'accordo di Do minore. Se questo è un La minore, questo è Si, e questo è Do. Do minore. Quindi lo prenderete così, sempre con questo barré, che per quanto scomodo però, questo barré adesso nella seconda parte, basta muoverlo e troverete tutti gli altri accordi. Questo è Do minore. Questa posizione qui è, quando mettiamo il dito numero due, abbiamo la terza minore. Se mettiamo il dito tre, abbiamo la terza maggiore. Quindi, attraverso questa diteggiatura potete trovare l'accordo minore o l'accordo maggiore. Nel caso di questo brano è Do minore. Poi va La bemolle. Quindi tiro tutto indietro al primo tasto e metto questo dito. Il resto rimane invariato. Metto questo dito e diventa La bemolle maggiore. Poi Si bemolle. Quindi tiro avanti. Un tasto. La bemolle. Si, La bemolle, La, Si bemolle. Vedete? Dal primo vado al terzo tasto. Quindi due tasti in avanti. La bemolle, Si bemolle, Mi bemolle. Così. Potete anche evitare di mettere questo dito e prendere solo quelle sotto. oppure tutto intero, Mi bemolle. Ripetiamo. Poi va Fa minore, Do minore, Re e Sol. Il Re e i Sol sono i primi due accordi che potrete imparare sul mandolino. Sono semplicissimi e carini. Potete suonare tante cose anche solo con questi due accordi. Ad esempio la musica popolare. Poi. Di nuovo, quindi gli stessi accordi. Secondo giro. Sol e Do. Secondo giro salta il Re settima, va direttamente a Sol e chiude in Do. E parte un temino che sta sotto al cantato. Ed è questo. Vedete? Sol, Fa, Mi bemolle, Re, Do. Poi. Re, Do. Do, Mi bemolle, La slano. Vi faccio notare, come troverete nella partitura, che questo temino non parte sul primo movimento della battuta. Le battute sono sempre in tre, un, due, tre, un, due, tre. Non parte sul primo movimento, ma parte sul secondo. One, ta, 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 ta. Un. Eccetera, eccetera, eccetera.